Vieni a trovarci e rimani con noi. È questo lo slogan dell'iniziativa promossa dalla Scuola di Giurisprudenza di Unicam per presentare i corsi di laurea attivati dalla scuola e far vivere ai nuovi iscritti o a quanti siano interessati a farlo, una prima esperienza universitaria con l'acquisizione dei primi crediti formativi. Dalla 14 alla 25 settembre quindi sia in presenza presso la Scuola di Giurisprudenza al campus universitario che online per ogni corso di laurea sarà possibile eseguire alcune lezioni su argomenti specifici tenute da docenti della scuola. Il direttore della scuola Rocco Favale e la delegata all'orientamento Katia Eliana Gentilucci hanno presentato le iniziative e sono stati a disposizione per domande e chiarimenti. Sono stati presentati il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, il corso di laurea triennale in scienze sociali per gli enti no profit e la cooperazione internazionale e il corso di laurea magistrale in gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea.